Ancora un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti per i militari della Compagnia Carabinieri di Vallo della Lucania, realizzato alle prime luci dell'alba dagli uomini diretti dal capitano mennato Malgeri, impegnati in un servizio specifico antidroga. Arresto per un nigeriano di 25 anni, resosi responsabile di detenzioni ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Intorno alle 6 di questa mattina, i carabinieri della Compagnia di Vallo, coadiuvati dalle unità cinofili, durante una perquisizione presso il centro di accoglienza Helios di Ascea, hanno rinvenuto 80 grammi di sostanza stupefacente, nonché materiale per la preparazione e il confezionamento. Infatti il nigeriano all'interno della sua stanza aveva ben celato e custodito la droga, confezionata in piccole dosi, pronta per essere venduta. Il nigeriano è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Vallo della Lucania, in attesa del rito per direttissima, dovendo rispondere del reato di spaccio. Sono stati inoltre segnalati alla locale prefettura di Salerno 10 persone per detenzioni ad uso personale di stupefacenti ed è stato recuperato così un ulteriore quantitativo pari a 40 grammi di hashish. Controlli antidroga anche nel golfo di Policastro da parte dei carabinieri della Compagnia di Sapri. 8 persone fermate per dei controlli sono state ritrovate in possesso di stupefacenti. Di queste due sono state denunciate, altre 6 segnalate per uso personale. In particolare i militari hanno denunciato a piede libero una coppia, lui di Santa Maria, lei di origini sudamericane, trovate in possesso di 15 grammi di marijuana. I due fidanzatini sono stati fermati ad un posto di blocco all'uscita di poderia. La droga era nell'auto in cui viaggiavano.